È Terra Nostra, il posto più vicino al paradiso. VEVAIA è il nome che è stato dato dai tecnici a un evento atmosferico estremamente catastrofico che si è verificato alla fine dell'ottobre dello scorso anno. La velocità del vento è fino a 200 km all'ora. In tali condizioni nessun albero è potuto resistere. Dai 40.000 ai 50.000 ettari di foresta ne hanno risentito e hanno avuto gravissimi danni a livello di produzione forestale. Allora, quali tipi di boschi sono stati maggiormente colpiti? Allora, tra i boschi maggiormente colpiti ci sono stati i rimboschimenti di abete rosso che sono stati fatti per esempio nel dopoguerra nell'altopiano dei Sette Comuni. Oppure ci sono stati boschi vetusti, boschi lasciati al libero anche alla libera evoluzione dopo essere stati piantati dall'uomo, quindi alla ricerca della loro rinaturalizzazione. ma anche foreste gestite con il metodo della servicoltura naturalistica come i grandi bellissimi boschi della Val di Fiemme o della Val di Sdende. Quindi un po' tutto è stato colpito ma questi più degli altri. Quindi maggiormente sono stati colpiti i boschi dove forse il piano forestale non era stato pensato nella maniera più corretta. Guardi, diciamo che anche nella gestione dei boschi l'uomo ha dovuto fare il suo cammino. Io me ne rendo conto dopo averli studiati che ci vuole tempo perché l'uomo capisca qual è il modo migliore per gestire un bosco. Quindi l'uomo ha avuto bisogno di secoli anche per arrivarci. Quindi sì, ha fatto degli errori l'uomo. Potè molto quindi il vento ma anche l'uomo? Diciamo di sì. Quali sono gli alberi che maggiormente hanno risentito di vaia? Sì, gli alberi che sono stati investiti da questo fenomeno hanno reagito in modo diverso. Ci sono quelli che hanno risentito di più, altri di meno. Quelli che hanno risentito di più sono stati per esempio gli abete rossi perché hanno un apparato radicale molto superficiale. Quindi sono poco, diciamo, aggrappati al terreno. Mentre l'abete bianco che ha una radice fittonante quindi che penetra di più nel terreno ne ha risentito meno. Se dobbiamo guardare le latifoglie, al contrario appunto di queste due che sono delle foglie, beh, queste hanno media resistito meglio a vaia. Primo perché all'epoca di vaia avevano già perso le foglie quindi non c'è stato l'effetto vela. Poi perché hanno anche un apparato radicale molto sviluppato e anche molto ben inserito nel terreno. Ma in assoluto quelli che gli alberi che hanno risentito di meno di questo fenomeno atmosferico sono quelli che hanno dentro, cioè nel loro DNA, già la capacità di resistere a fenomeni atmosferici estremi e sono il Larice e il Pinocembro. Bene, loro abitano queste situazioni difficilissime, verso i 2000 metri. Sono gli ultimi alberi che trovi e li vedi proprio sfumare verso la cima delle montagne. Dopo vaia, lasciamo i boschi lì come sono e lasciamo il compito alla natura o l'uomo deve intervenire? Vuole sapere il mio parere? Sì. Allora il mio parere è che salvo liberare le zone dal pericolo che può rappresentare una serie di tronchi abbandonati, quindi pericolo per paesi, pericolo per strade, pericolo anche per turisti. Io sarei per lasciare là. La natura sa bene come fare, perché le tempeste le ha inventate lei, come ha inventato lei i boschi, perciò lei sa bene come fare per ricostruire gli equilibri. Lo sa fare meglio di noi, perciò io avrei sicuramente, se dipendesse da me, a parte le situazioni di pericolo, io lascerei alla libera evoluzione. Non penso che l'unico aspetto da valutare debba essere quello economico, perché poi la natura quando si mette, ci mette tutti in ginocchio, per cui secondo me è più da puntare sul benessere degli ambienti. Grazie a tutti.